buongiorno ragazzi dal teo crack aparte alla botteguccia dei sigilli per un crimine al giorno 3 aprile jesse james il leggendario bandito jesse james si era fatto come dire un pochettino vecchio e disattento per quello che era il mestiere del bandito ovviamente vecchio è una questione strettamente relativa ai tempi in cui viveva accusato di centinaia di assassini e di rapine aveva una taglia sulla testa di 10.000 dollari si era fatto disattento perché aveva introdotto alcune persone nuove nella banda ea un paio di queste persone aveva dato un diciamo una rilevanza che probabilmente in passato non sarebbe stata prevista dal dal comportamento di jesse james e questo fu fondamentalmente il motivo fu la causa primaria della sua morte se possiamo dire prematura che in questo caso non è avvenuta per impiccagione come spesso poteva succedere ai criminali che venivano assicurati alla legge ma vediamo la scheda di oggi per il 3 aprile eccola qua scheda relativa appunto a jesse james l'anno è il 1882 siamo in una casa a saint joseph nel missouri negli stati uniti e siamo il mattino abbastanza presto avevano appena fatto colazione avevano chi jesse james anni 34 bandito insomma che aveva raggiunto una taglia di 10.000 dollari ovviamente dead or alive vivo o morto e in particolare i due fratelli robert detto bob e charles ford in particolare robert ford di anni 22 entrambi complici da poco di james che gli aveva dato una posizione di rilievo della banda e aveva addirittura regalato a robert ford una smith and wesson calibro 45 molto particolare nichelata con il calcio lavorato in madreperla è stata proprio quell'arma che la mattina del 3 aprile del 1882 ha tolto la vita al celeberrimo jesse james che cosa è successo erano in una stanza d'hotel poco dopo la colazione faceva un caldo eccezionale così è stato raccontato insomma da robert ford e dal fratello e jesse si tolse il cinsurone così come i sovra pantaloni a causa del caldo per rilassarsi un attimo e anche per non destare eccessiva attenzione a causa del rimanere armato addirittura all'interno dell'hotel che cosa successe vide un quadro che era leggermente storto sulla parete e salì su una sedia per aggiustarlo semplicemente jesse james robert ford colse l'occasione in quel momento come unica occasione possibile di far fuori il suo capo e celeberrimo bandito jesse e gli sparò un colpo alla nuca in realtà mentre jesse james stava girandosi questo è il riferimento di robert ford sono quello che poi riferì alle autorità stava girandosi ma non disse una parola queste furono le parole precise di robert che non venne sostanzialmente neanche perseguito intascò effettivamente la taglia e addirittura costruì un opera teatrale bar musical con il fratello come ho ucciso jesse james la sua fortuna in realtà non durò troppo perché sia la volontà di vendetta di numerose persone che facevano parte della banda di jesse james e amici di jesse james stesso e la volontà di successo da parte in particolare di un ex poliziotto edward o kelly ed o kelly gli tolse la vita a sua volta l'8 giugno del 1884 quindi poco più di due anni dopo l'assassinio di jesse james questa taglia insomma particolarmente abbondante non fu goduta da robert detto bob ford il fratello charles era morto suicida nel frattempo l'aprile dello stesso anno questo è il crimine al giorno per oggi alla botteguccia dei sigilli come al solito ci vediamo domani e mi raccomando giovedì in diretta con il pellegrino macabro la storia di richard ramirez il vampiro che entrava dalle finestre aperte insomma in maniera estremamente conforme a quelle che sono le leggende come al solito come un crimine al giorno ci vediamo domani alla botteguccia dei sigilli ciao 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 ciao